Allora, molto importante, molto importante, serietà, serietà, sono persone seri, non ci sono preferenze tranne uno, no, devo perdere mezzo secondo così siamo in diretto tutti quanti, abbiamo finito cosa dobbiamo fare, grazie del vostro giudizio già in partenza. Allora, una cosa molto importante, c'è stata una signorina che ha detto, ah, con le pizze di gomma? Sì, è la prima volta che facciamo una gara, è la prima volta che facciamo una gara con le pizze di gomma. Però, siccome abbiamo impostato, abbiamo impostato, ieri sera festa dei nonni e abbiamo dato 4.000 pasti alle parrocchie leccesi, abbiamo impostato che tutto il ricavato della manifestazione va in beneficenza all'oncologico pediatrico di Lecce. Spendere altri 30, 40, 100 euro per comprare la farina e per farla buttare per fare questa gara, preferisco darle all'oncologico pediatrico. Quindi oggi, quindi oggi, che cosa facciamo? Giochiamo con le pizze in lattice. Lo posso dire? Lo posso dire? Che le produce il nostro amico Giuseppe Conti e il mio spacciatore personale da qualche anno a questa parte. Quindi se cazzo mai qualcuno, assolutamente. Sono la mia dottoressa che spaccia le mie pastiglie, adesso arriva la mia terapia. Sì, siamo in diretta, grazie. E se qualcuno ha bisogno di comprare le pizze in lattice, c'è qui Giuseppe Conti, dove vanno finci la gara e potete chiedere. Quindi, solo ed esclusivamente per mantenere una linea del programma che abbiamo fatto per questo campionato, si gareggerà con le pizze in lattice. Va bene? Solo ed esclusivamente. E poi anche perché siamo in diretta, andiamo più veloci con le gare, perché sappiamo mondiale quanta gente, il sottoscritto, che spende le pizze per tutti quanti per sbrigarci, per fare, per non avere buchi televisivi. Va bene? Allora, andiamo avanti. Prima concorrente chi è? Ah, sei pronto? Andiamo comunque più dietro col banco, ti va bene qui. Va bene così, ti basta il suo spazio? Ok. Mi tolgo dalla scena, perché non c'entro niente io. Il telefonino si metterò in sedone. Perfetto. Giovanni Rinaldi? Allora, un applauso a Giovanni Rinaldi! Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Al mio tre, al mio tre, alziamo il numerino. Grazie a tutti. 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 Otto, 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 nove, sette e mezzo, otto, 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 sette e mezzo, otto. Un applauso. Grazie a tutti. Non è questa. Otto, 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no suggerisci bene ah salutiamo anche chi ci segue su facebook ha ragione perché un saluto a tutti quanti che ci seguono su facebook e su salento television bravissimo pronti siamo pronti mi tolgo dalla scena mi tolgo dalla scena mauro siamo tutti con te un applauso al mauro 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Uno, Luca. 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 Lui è inizio. Buon? 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 Lui è l'ultimo. Pronti? Vai con la musica. Comunque la musica. Salute! Grazie! Luca Vizio! Siamo pronti ragazzi? Anno mio tre! Tre! Otto e mezzo! Otto! Sette e mezzo! Otto e mezzo! Otto e mezzo! Otto e mezzo! Otto e mezzo! Sette e mezzo! Otto e mezzo! Otto e mezzo! Un attimo! Scusate per dire che tu! Scusate per dire che tu! Hai ragione! L'ultimo con corrente chi è? Più brutto di tutti! L'ultimo con corrente chi è? Francesco? 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 Atacca la musica? No! Sì! Sì! Hai bisogno di dare le tue pizza ragazzi? Ragazzi le tue pizza? Sì! Sei facile? Ok! Sei pronto? Taccata la musica! Sempre! Sempre! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Due secondi. Otto e mezzo, otto, otto, otto e mezzo, nove, otto, otto e mezzo, otto e mezzo, otto e mezzo. Un applauso. Un applauso. Grazie a tutti. 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 e ho quasi trinitato questi confronti tutti i ragazzi che stanno facendo mi sono buonasera buonasera ho fatto un piccolo buonasera ho scelto il ragazzo del movimento di sanziali prima di fare i miei complimenti dalla parte mia dalla parte di tutto il gruppo del gruppo della parte della parte della parte della parte del gruppo ultimamente ce l'avevamo un po' persi, però come si dice, non è meno potente, no? E ho fatto molto piacere solo guardando che avete preso questa nostra collaborazione e questa nostra amicizia, perché l'amicizia vera può prendere i voti. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te, complimenti per la mia amministrazione, ne approfitto o devo pagare una royal per parte. Siamo presenti e vi invito personalmente al campionato mondiale di Pizzera di Carte, il diciottesimo, festeggiamo anche il nostro compleanno, diventiamo maggiorelle, alla scadela di 4 ottobre a Santa Catarina. Mi farebbe piacere di tutti i quali. Se potrete sarete ovviamente ben graditi. Grazie, è una buona proseguimento di Carte. E quello che ho detto è che magari in vicissimi ci attuano a un po' però è anche vero che non sono conosciuti alla nostra società per i meri. quindi una delle cose brutte che si diventano un po' più grandi che cambiano i problemi, che cambiano le priorità, che cambiano le esperienze quindi per parlare di cose belle adesso siamo diventando 21 più maturi e pensiamo di aiutare ancora di più di quello che facevamo prima i ragazzi a mettere sulle strade di un'interno e quindi come diceva Franco ci siamo allontanati un attimino perché per problemi di fiera facevamo l'evento la stessa settimana perché io facevo l'evento e il campionato la stessa settimana sua perché ero agganciato l'evento fiera e quindi erano quasi 12 anni che non andavamo più quest'anno abbiamo deciso di cambiare un attimino le giornate della manifestazione ma quando ho deciso di fare la manifestazione l'ho deciso non per allontanarmi dalla tua ma perché ieri era il 2 di ottobre gli angeli di custodio della famiglia perché le persone più grandi al mondo grazie ragazzi, i doni sono le persone più belle e più belle del mondo ciao a tutti allora, andatevi 10 minuti, lui non vi gastate dentro i conti voi vi potete andare a prendere un cappello e una birra al bar lasciate un che qui no, 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 no ciao a tutti 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 io voglio fare un ringraziamento speciale a questo ragazzo una volta ragazzo, adesso è un po' più cresciuto perché ogni volta è capace di fare una cosa troppo bella che ultimamente si sta perdendo nel mondo della pizza io ormai, io mi l'ho detto, il prossimo momento ci vediamo per me la capire, perché ovviamente mi fa piacere a tutti se qualcuno l'ha anticipato, mi vogliono far fuori vuol dire che se è un premio la capire vuol dire che no? infatti a parole pozzo ho i rotto le scatole, vattene che si è diventato vecchio vabbè, mi ritengo sempre un giovanoso, scherzo dico questo perché i tempi un po' sono cambiati le associazioni sono aumentate tantissimo gli istruttori sono diventati, ho perso il conto i maestri non si contano più, pizzaioli semplici non ce ne sono più in pizzeria ci sono solo maestri beh, io non mi tengo manco all'attesa di pizzaioli che effettivamente non sono mai stato però posso dirvi e garantirmi una cosa che quest'uomo qua accanto sa fare una cosa fantastica quello di creare un gruppo ogni volta di amici bravo di sempre grazie, grazie a tutti allora ci terminiamo 15 minuti con la rivoluzione a Francesco ci vediamo per tutti e poi benvenuti a un pagliare grazie 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 grazie